Ragazzi, oggi mentre stavo lavorando mi arrivano più di 100 messaggi insieme su Instagram, su Whatsapp, gente che cerca di chiamarmi, tutti quanti con la stessa frase Sei finito su Sport Mediaset. E io come? Ancora? Perché già io sono finito su Sport Mediaset durante il video di Italia Svezia, quando siamo stati purtroppo eliminati Dopo quel video ero finito su Sport Mediaset, ero esaltatissimo per questa cosa. Oggi sinceramente non me ne aspettavo perché ho detto Ma per cosa sono finito su Sport Mediaset? Che è successo? Sono finito su Sport Mediaset, ho pensato magari per il video su Ronaldo No, sul video sulla Svezia, sul discorso appunto che la Svezia potrebbe vincerci il mondiale in faccia Sono rimasto favorevolmente colpito, come è normale che sia ragazzi, io ho iniziato a fare video su YouTube per mettermi un po' alla prova così E queste sono grosse soddisfazioni, sono soddisfazioni enormi per uno YouTuber, per me in generale come persona, come Giuseppe Sono soddisfazioni gigantesche. Ovvio, magari uno dice ma potevano almeno dire Papirus con la tua faccia Almeno magari uno ti cercava su internet oppure potevano ringraziarti in un qualche modo, contattarti magari No ragazzi, fanno così, loro prendono ovviamente i pezzi. Sono contento che lo facciano alla fine perché comunque fa piacere finire in televisione Poi ovvio se tu metti il loro pezzo qui su internet magari ti prendono il video per il copyright, diciamo, da monetizzazione e te la bloccano Spero di no. Metterò il pezzettino adesso in cui uscirò, diciamo, su Italia 1. Dove sono uscito su Italia 1? Il video parte adesso, guardatelo Avete visto? Ecco Pezzettino piccolo, dico una frase e basta, però comunque è una roba che ti fa Propriamente piacere, ecco. In tanti stavano guardando la televisione all'improvviso, vedono la mia faccia e dicono Ma cosa ci fa? Ecco, infatti, allora, è la stessa faccia che ho fatto anch'io quando effettivamente ho visto il pezzo Sono contentissimo, ragazzi Effettivamente queste sono cose che mi fanno tanto piacere Ovvio, se Mediaset magari dice Allora, io guardo i video di Papyrus Io sono uno che guarda i video di Papyrus Lo mettiamo all'interno del Sport Mediaset Ma che metti? Dei youtuber su Sport Mediaset? Sì, sì, mettiamoli youtuber su Sport Mediaset Va bene, quali vuoi mettere? Questo qua è bravissimo, mettiamolo Ok, mettiamo questo qui Se pensi che sono bravissimo e quindi guardi i miei video Potreste chiamarmi magari per un lavoretto Qualcosa, non lo so, sai Diciamo che l'ambizione per uno youtuber Che tratta di calcio su Youtube Magari è che possa contattare la televisione Quindi Sport Mediaset, eh? Possiamo metterci d'accordo magari, qualcosina, no? Io sto finendo di laurearmi adesso Mi manca soltanto la tesi, no? Sport Mediaset, Mediaset in generale Signor Berlusca, no? Nulla? Non so, chiedo, eh, chiedo A parte gli scherzi, ragazzi Comunque grazie mille veramente Per questa cosa Perché alla fine è anche in merito vostro Per le vostre visualizzazioni Per voi che commentate Per voi che condividete Per gli iscritti, diciamo, in generale che ho Sono contentissimo, raga Niente di diverso Sono stracontento E lo devo soltanto a voi Grazie ancora, ragazzi Veramente Veramente Grazie a tutti Grazie a tutti